53. Piccoli. Mia moglie, insegnante di musica, molto cattolica, ottima moglie e madre, da vent'anni ha Alzheimer. Che ha fatto di male? Commento. Non ha fatto niente di male, non ha compreso l'essenza della vita. Né lei né tu siete mai stati piccoli. Perché piccoli? Perché quando si è piccoli si è umili ed emerge la coscienza.